La Procura della Repubblica dell'Aquila ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini a tre dei 12 indagati nell'ambito dell'inchiesta relativa alla gara d'appalto per il restauro di Palazzo Centi, ex sede della Presidenza della Giunta Regionale dell'Aquila, danneggiato gravemente dal sisma dell'aprile del 2009 e il filone principale della maxinchiesta sui appalti gestiti della Regione. Si tratta dei tre dirigenti regionali che facevano parte della Commissione Esaminatrice, Giancarlo Misantoni, Roberto Guetti e Silverio Salvi. Ai tre viene contestata l'accusa di pazzo. Si avvia invece verso l'archiviazione la posizione degli altri nove indagati, primo fra tutti il Presidente della Giunta Regionale, Luciano D'Alfonso, eletto senatore, come è noto, alle elezioni del 4 mazzo scorso. Gli altri indagati sui quali il PM Picuti chiederà l'archiviazione sono l'ex dirigente del Ministero dei Beni Culturali Berardino Di Vincenzo, ora in pensione, uomo vicino a Luciano D'Alfonso, che lo ha nominato consulente, il figlio Giancarlo Di Vincenzo, tecnico progettista, gli imprenditori Giancarlo Di Persia e Mauro Pellegrini, titolari dell'impresa di IPE. Il capo della segreteria d'Alfonso, l'ex consigliere PD Claudio Ruffini, l'amministratore delegato di Icet Ingeniring di Castelli e Eugenio Rosa e due progettisti Alessandro Pompa e Gianluca Marcantonio, verrebbe fuori da fonti interne al Tribunale che dal carteggio non emergerebbero responsabilità penali a carico dei nove. Nelle settimane che verranno, la procura aquilana potrebbe anche presentare istanza di archiviazione al GIP. Agli indagati sono state contestate a vario titolo le ipotesi di reato di corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico e abuso d'ufficio. In sostanza, per la procura, ci sarebbe stata un'azione per favorire un'impresa. La maxi-inchiesta, che ha 11 filoni e oltre 30 indagati, era coordinata dal pubblico ministero Antonietta Picardi, che nel settembre 2017, come è noto, è stata trasferita presso la procura generale della Corte di Cassazione. Il procuratore capo, Michele Renzo, ha filato i vari filoni ad altri PM. La gara comunitaria, che metteva al bando circa 13 milioni di euro, è stata vinta dall'Edil Costruzioni Generali di Venafro, con un ribasso del 35%, un'impresa non coinvolta nell'inchiesta. I lavori sono stati sbloccati dopo che la procura ha riconsegnato la documentazione sequestrata e nei giorni scorsi, dopo il pronunciamento della giustizia amministrativa che ha bocciato il ricorso presentato dall'impresa Terramana Cingoli, Nicola e Figlio, È stato firmato il contratto con la Regione, stazione appaltante e l'impresa molisana. La commessa è stata caratterizzata da tantissimi ritardi.